Il ponte di via Marconi, detto anche ponte Ciampa di Cavallo, non so quanti servizi abbiamo fatto. L'ultimo è stato nelle ultime ore, con un'intervista effettuata al sedaco di San Marzano, avvocato Carmelo Azzuotto e ha minacciato, ed è una minaccia istituzionale, di incatenarsi qui sul ponte qualora si perdesse ancora tempo. Guardate dove arriva tutta questa immondizia e non sono solo canne, c'è di altro, c'è tanto altro. L'acqua scorre molto lentamente al di sotto di queste canne, al di sotto di questo cumulo immenso di immondizia. Scorre sotto questo ponte, il quale incolpevolmente fu costruito circa 40 anni fa, stando alle informazioni che ho io, qui quando piove si allaga tutto e si allaga tutto e il rischio che si sta accorrendo è che le sponde del fiume, un poco alla volta, stanno franando. Qualora franassero tutte queste sponde, è diventata solo una lingua di terra. una lingua di terra, è vero che in alcuni punti ci sono delle sponde di cemento, fortunatamente, ma se quelle sponde scendessero giù, franassero tutte quante, beh, io credo che queste terre non avrebbero più ragione di esistere. Noi eravamo ragazzi e andavamo a fare il bagno, io ho imparato a nuotare proprio in quel posto, a ciampa di cavallo, sono abbandonati a loro stessi, non c'è, non ci vorrebbe molta manutenzione, ma non si sa da dove dobbiamo partire per fare questa manutenzione. Non ci è baffo o bagna? Veramente? Ehi, ci ho bevendo l'acqua. Ci credi o no? Adesso muori, se te lo bevi. C'erano i capitoni, i capitoni, i capitoni, i ragazzi, c'erano? No, noi teniamo un ciume piccolino e tutto là, ci facciamo il bagno, boviamo l'acqua. Poi andiamo a vedere quello che accende il fuoco, con voglia di plastica dentro e fanno i verbali e non vedono il fiume che tutta l'acqua è inguinata e cresce la verdura, ci menziamo la verdura con l'inguinamento del fiume di Sarno. Questa è la macchina, non manda un po' il giomarino, poi bacia la lunga acqua, c'è l'acqua dappertutto. Il centro ha detto che si incatenerà lì, quindi non pagano l'acqua. Fa bene, fa bene. Sapiamo che sta sempre che esce fuori l'acqua via di sé, purtroppo... Credo che lei ci sia andato qualche volta. Sì, sì, sta sempre l'acqua là, ferma, l'immunizia. C'è un po' di un passamanco che è macchina. Se il vostro sindaco veramente si incatena da sopra, lei le starebbe vicino? E come no? Sicuro? Perché le chiese? E io sono convinto che ci riuscirà. Una donna caparbia, che nel senso che vuole fare per il suo paese, perché ama il suo paese.